Ciao Michele, ciao Maddalena, sentite volevo chiedervi ma per questo progetto sul Macbeth esattamente che cosa state cercando? Cioè volete dei video, delle immagini che siano delle proposte proprio sui personaggi? Oppure volete delle proposte più generiche sui temi, sui concetti del Macbeth? Guarda, potrebbe essere sì. Con delle ambientazioni precise oppure no? Potete chiarire un po' che state cercando? Grazie.